Buon inizio di settimana, bentrovati sul 15 per l'informazione quotidiana di Esperia TV. In apertura la pagina politica, Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, ha nominato il deputato Francesco Cannizzaro, nuovo coordinatore calabrese degli Azzurri. Cannizzaro, succede a Giuseppe Mangiolavori. Vediamo. Il segretario nazionale Antonio Tajani ha nominato il deputato Francesco Cannizzaro, nuovo coordinatore di Forza Italia in Calabria. Al nuovo responsabile degli Azzurri calabresi, si legge sul profilo X di Forza Italia, i migliori auguri di buon lavoro da tutto il movimento. La decisione di affidare l'incarico a Cannizzaro segue le dimissioni presentate dall'ex coordinatore regionale Giuseppe Mangiolavori. Il segretario nazionale Antonio Tajani mi ha affidato questo compito, arduo ed al contempo molto stimolante, e lo ringrazio per la grande fiducia. Svolgerò, scrive Cannizzaro, anche questo ruolo con massima dedizione ed entusiasmo, come sempre, sapendo di poter contare su una spalla forte e fraterna, il presidente Roberto Occhiuto. Insieme a tutti i coordinatori locali, i sindaci, gli amministratori, i consiglieri ed assessori regionali, i parlamentari e da chi mi ha egreggiamente preceduto, il collega e amico Giuseppe Mangiolavori, lavoreremo da squadra con un unico obiettivo. Rivolgo a Francesco Cannizzaro, commenta all'onorevole Mangiolavori, i miei auguri di buon lavoro, certo che saprà guidare Forza Italia nel migliore dei modi. Un partito, il nostro, che in Calabria è sempre stato e resta tuttora un punto di riferimento per l'intero centrodestra. A Cannizzaro arrivano le congratulazioni del presidente della regione. Con Francesco, scrive Roberto Occhiuto, abbiamo condiviso negli ultimi anni tante battaglie, tanti successi e traguardi a livello locale e nazionale. Tra di noi si è consolidato un solido rapporto di amicizia e stima. La centrodestra, il centrosinistra, non ci fidiamo perché gli annunci di rete ferroviarie italiane e quelli del ministro Salvini, ascoltati più volte in quest'ultimo anno e mezzo di governo nazionale, sono sempre stati continui ma reali. Va dritto al punto Nicola Irto, segretario regionale del PD, nel corso della conferenza stampa organizzata alla Mezzia. Le parole del senatore Calabrese sono indirizzate all'ultimo evento organizzato a Roma, dove alla presenza del presidente della regione Occhiuto è stato presentato l'investimento di oltre 13 miliardi di euro da parte di ferrovie dello Stato. Sentiamo le dichiarazioni di Nicola Irto e poi quella di Enza Bruno Bossio. Ma non ci fidiamo perché gli annunci di RFI e del ministro Salvini, anche in aula più volte in quest'ultimo anno e mezzo di governo nazionale, sono sempre stati continui ma mai reali. Semmai guardando le carte ci sono risorse che si sono spostate. E' sparita l'alta velocità, il rapporto pendolare ci dice il dramma dei treni calabresi che non raccontiamo noi, che non racconta il PD. Lo sanno i cittadini che prendono quotidianamente, vivono i disagi delle infrastrutture ferroviarie in questa regione di collegamento. Ecco c'è una presa in giro. La Calabria è un contenzioso vero, storico, con RFI e con ANAS. Piuttosto che fare una conferenza stampa a Roma per parlare ad altri, si venisse in Calabria e si dicesse davvero cosa si vuole fare, se si vuole riprendere il tema dell'alta velocità, a prescindere dai tracciati non entriamo nella polemica inutile, vogliamo sapere se la Calabria ha diritto ad avere l'alta velocità oppure no, se la 106 deve rimanere ancora con i passaggi a livello, è una morte continua, una strada della morte o ci sono degli impegni veri. Ecco noi chiediamo questo al governo nazionale, a RFI, e aggiungo anche ANAS e lo facciamo oggi con le referenti del partito, diciamo dei dipartimenti tematici del Partito Democratico della Calabria, con i consiglieri regionali, insomma il Partito Democratico nel suo complesso. Noi non contestiamo l'ormai, diciamo così, consueta annuncite di occhiuto, contestiamo il fatto che servono risposte ai calabresi, perché andare avanti così è totalmente inaccettabile e incivile. presentano invece un'ipotesi di investimento di 13 miliardi e 4 che francamente non si capisce cosa viene sommato per questo. Sicuramente molte cose che già sono in ritardo, prima fra tutti i 300 milioni dell'elettrificazione della ferrovia ionica, di cui non ci scordiamo 40 sono stati dati già da questo governo alle ferrovie del nord. E poi sempre gli stessi 3 miliardi della ionica che francamente noi come governi precedenti avevamo pensato di attuare in tre anni e invece sono stati spalmati in 15 anni. Ma anche facendo così non tornano i conti. E alla fine 8 miliardi del fondo complementare vengono tutti usati all'interno diciamo del lotto romagnano Praia che in Calabria non sarà utilizzato nemmeno per un euro. Quindi mi pare tutto un blef e nel frattempo abbiamo perso i soldi del fondo complementare. Ultima pagina, Gilberto Pichetto Frati, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in un'intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno ha affrontato la domanda relativa ai rigassificatori, in particolare sull'intenzione di ubicarne anche nel mezzogiorno. Ha detto, la realizzazione dell'impianto nel porto di Gioia Tauro è stata autorizzata insieme al progetto di Porto Empedocle. Il ministero lo ha inserito nel Piano Nazionale per l'Energia e il Clima. Li consideriamo opere rilevanti per la sicurezza energetica nazionale. Ora sarà compito dei proponenti effettuare le necessarie verifiche tecniche ed economiche per portare avanti i progetti. L'ok del governo è pieno e determinato. La Calabria è quart'ultima in Italia per arrivi turistici con numeri non proprio esaltanti e con presenze concentrate solo tra luglio ed agosto. Occorre dunque destregionalizzare. Ecco perché la Regione mette sul piatto risorse per oltre 46 milioni di euro per un nuovo piano di comunicazione. Vediamo. Servono più voli, estate, inverno, primavera o autunno. La litania non cambia. La parola d'ordine è destagionalizzare. Tolti luglio ed agosto la Calabria non attira che sia in aereo, in treno, in nave o in auto. La Calabria è infatti quart'ultima in Italia per arrivi turistici con la Puglia e Sicilia che registrano più del doppio degli arrivi. Conferma la Regione nel report allegato alla nuova campagna di comunicazione. Sul piatto il governo chiuto mette 47 milioni di euro. Il gruzzoletto servirà a rilanciare la presenza del sistema regionale sui mercati internazionali attraverso l'adozione di strategie commerciali e modelli innovativi di intervento che valorizzino le filiere di eccellenza e il territorio regionale nel suo complesso. Un piano di marketing che via web, social e media tradizionali si snoderà su quattro direttrici Europa dell'Est, Europa Centrale, Europa dell'Ovest e mercati interni. Destinazione Calabria punta principalmente a intercettare i viaggiatori in aereo incrementando nell'arco di vita del progetto almeno il 10% del flusso di passeggeri nei tre scale di Lamesia Terme, Reggio e Crudone. Se si considera la quota di turisti stranieri la Calabria è al terz'ultimo posto a livello nazionale con un'incidenza di stranieri pari al 9% del totale regionale seguito solo da Abruzzo e Molise. Secondo i dati stat rielaborati dallo studio Ambrosetti e riportati dalla regione, Puglia e Sicilia registrano rispettivamente il doppio e quasi il triplo della quota di turisti stranieri della Calabria. La domanda di turismo nazionale verso la Calabria è caratterizzata invece da un'elevata incidenza di Repeater, la cui maggioranza proviene dalle regioni di Mitrofe. Secondo Neon Camere Calabria circa i canali di comunicazione che maggiormente influiscono sulle scelte del soggiorno il 47% dei turisti sceglie di andare in Calabria perché c'è già stato o perché ha avuto esperienze pregresse sul territorio. Autonomia differenziata sindaci a confronto questo è il tema dell'incontro in programma mercoledì al complesso San Giovanni di Catanzaro che vedrà riuniti i sindaci del capoluogo Nicola Fiorita, di Cosenza, Caruso, di Crotone Voce e di Leggio Falco Matà oltre alla presenza del sindaco di Bari e presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Antonio De Caro. Sono felice, dice Fiorita, che il mio invito sia stato accolto dagli altri sindaci e in modo particolare della presenza del presidente De Caro che su questo tema ha inteso avviare una interlocuzione importante con il governo al fine di tutelare le posizioni dei primi cittadini. La Calabria e il Sud prosegue Fiorita non potranno che subire riflessi sostanziali nella capacità di programmare e gestire i servizi essenziali se guardiamo all'impostazione federalista immaginata dal ministro Calderoli che sta generando reazioni e riflessi da parte di tutte le forze politiche. Nuovi arrivi, dunque, nuovi rinforzi al comando provinciale dell'arma dei carabinieri di Crotone li ha presentati questa mattina il comandante provinciale il colonnello Raffaele Giovinazzo per noi c'era Luigi Saporito. Undici nuovi arrivi al comando provinciale di Crotone undici giovani carabinieri che prenderanno servizio immediatamente saranno dislocati nelle stazioni della provincia di Crotone e i termini di questi nuovi arrivi ci ha spiegato il colonnello Raffaele Giovinazzi. Undici nuovi carabinieri che arrivano dai corsi di formazione dell'arma che andranno a rafforzare l'offerta di sicurezza del nostro territorio e la loro destinazione, come dicevo prima, sono le stazioni carabinieri dove completeranno sul piano pratico anche il loro percorso di formazione. Si tratta di una dimostrazione di particolare attenzione che il comando generale e il comando legione carabinieri Calabria hanno voluto riservare per questo territorio che è un territorio sempre più importante sotto tutti i punti di vista. Ma c'è ancora la vocazione per diventare carabinieri? Sì, molta. Devo dire che rispetto ai periodi anche passati in cui, penso per esempio subito dopo le fasi del terrorismo in cui c'era uno scarso arruolamento adesso l'aspirazione di entrare a far parte di un'organizzazione di una forza di polizia ad ordinamento militare com'è l'arma dei carabinieri è un'aspirazione molto seguita dai giovani che peraltro per intraprenderla effettuano anche dei corsi di preparazione ad hoc sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista della preparazione tecnico-professionale. La stanno ascoltando tutti quanti vuol dare un consiglio a questi ragazzi? Dopo questa conferenza stampa faremo un incontro dove ovviamente verranno dettate delle indicazioni di carattere generale che noi denominiamo azione morale che deve avere il carabiniere soprattutto dal punto di vista del contegno dal punto di vista del rigore e del senso di disciplina. Il consiglio che do loro è quello di vivere questa condizione serenamente di mettere in pratica quelli che sono gli insegnamenti che hanno acquisito nel corso della loro formazione che ripeto è una formazione molto accurata e di seguire l'esempio che troveranno presso i comandi di stazione. Una di cronaca a una persona è stata arrestata altre 15 sono state denunciate nel corso di controlli dei carabinieri fatti nel Regino nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'arma e l'Enel per il contrasto del furto dell'energia elettrica l'arresto è stato eseguito a Motta San Giovanni un 30 sen è stato sorpreso all'interno della propria attività commerciale con un allaccio abusivo alla rete elettrica allaccio abusivi con la contestuale denuncia di 15 persone sono stati effettuati anche a Stignano Mammola, Placanica, Rocella Ionica dove ad essere allacciato è stato un ristorante ancora a Camini, a Caolonia, a Reggio i controlli dell'arma negli ultimi giorni hanno permesso di riscontrare un danno economico pensati di circa 400 mila euro è stato pubblicato il bando del concorso docenti 2023 si tratta della prima procedura prevista dalla fase transitore del piano nazionale di ripresa e resilienza le domande per il concorso scuola straordinario potranno essere presentate fino al prossimo 9 di gennaio i posti messi a bando per l'anno scolastico 23-24 sono oltre 20 mila in Calabria si tratta di 186 posti per il primo grado 4 per i quali per il sostegno e 423 per il secondo grado 4 dei quali per il sostegno anche in questo caso dall'8 dicembre scorso dunque siamo entrati nel periodo delle feste natalizie tante iniziative e tanti presepi anche nelle città calabresi con questo servizio andiamo a Reggio Calabria il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha inaugurato nella sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro il presepe artistico del 700 in stile napoletano opera del maestro Vincenzo Papalia il presepe napoletano è un presepe artistico il presepe che veniva allestito nelle case nobiliari nel 700 da Carlo di Borbone Carlo di Borbone si dilettava a sistemare i pastori che commissionava per esempio a Giuseppe San Martino e autore del Cristo Velato e alla moglie Maria Maglia di Sassonia che li vestiva con le sete di San Leucio e realizzava questi impianti scenografici questo presepe si chiama scoglio la natività non è rappresentata nella grotta è rappresentata nel Tempio di Roccato perché Carlo di Borbone oltre a essere un appassionato di presepe era un appassionato di archeologia fu lui che riscoprì gli scavi di Pompei all'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Parchi Culturali preseduta da Salvatore Timpano erano presenti anche il vice sindaco Carmelo Versace i presidenti del Consiglio Comunale di Reggio Calabria Enzo Marra oltre a tanti cittadini che hanno potuto ammirare la bellezza e la cura dei dettagli di un'opera unica fortemente rappresentativa anche della tradizione regina oltre a essere di per sé un elemento portante della cultura popolare del nostro paese si arricchisce con elementi che raccontano la storia prettamente regina quindi io ringrazio il presidente dell'AIPARC il dottore Timpano per avere proposto quest'idea alla città metropolitana naturalmente l'artista Vincenzo Papalia e questo è il presepe artistico è un elemento di punta del Natale metropolitano che abbiamo organizzato insieme alla Svipro e colgo sempre l'occasione per ringraziare Michele Rizzo di questo è davvero un elemento di pregio artistico importante io mi auguro che sia vissuto sia visitato soprattutto dai ragazzi soprattutto dai giovani perché sono loro che devono portare avanti quest'arte millenaria questa tradizione popolare antichissima e quindi sta a loro in qualche modo comprenderne maggiormente il significato perché raccontare la nostra storia e le nostre tradizioni significa non farle morire ma soprattutto significa garantirle un futuro quindi venite a visitare il presepe qui a Palazzo Alvaro ne rimarrete davvero contenti perché è curato in ogni minimo particolare ed è davvero un piacere vederlo Ed ora da tutt'altra parte della Calabria andiamo nel Pollino a Castrovilleri dove sono tornate le stelle di Natale per sostenere l'Associazione Italiana contro le leucemie anche quest'anno nel fine settimana sono tornate in piazza i volontari dell'AIL con le stelle di Natale lo storico appuntamento con la solidarietà promosso dall'Associazione Italiana contro le leucemie linfomi e mieloma da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie io contribuisco sempre sempre quando c'è questa associazione partecipo volentieri perché sono sicuro che il contributo va a favorire va ad aiutare la ricerca sulle leucemie l'iniziativa stelle di Natale a AIL ha permesso in tanti anni di mettere in campo progetti di ricerca scientifica e assistenza e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi nel trattamento dei tumori del sangue a quanto è importante contribuire alla ricerca e in modo particolare questa mattina beh la ricerca è essenziale io ho fatto il medico per 40 anni più o meno qui intorno in ospedale qui so bene che cosa voglio dire avanzare nella tecnica e nelle capacità diagnostiche e queste passano necessariamente attraverso la ricerca quest'anno vicino ai volontari anche il neonato club di servizio Lions Castella Ragonese di Castrovillari per la prima uscita ufficiale oggi usciamo ufficialmente come club il nostro è un club che interagisce con tutta la zona del Pollino Sibariti del Valle dell'Esero è un club che si vuole occupare dei territori e da questo momento in poi noi faremo i nostri service principalmente extra Castrovillari nel senso che li faremo in tutto il territorio che abbiamo già citato quale service avete individuato come prima uscita noi faremo immediatamente il nostro service che è un service che io come iscritto a Lions ho fatto da moltissimi anni che è il progetto Martina e lo faremo presso l'istituto liceo scientifico di Ruggiano Gravina il progetto Martina si occupa di prevenzione dei tumori giovanili e questa prevenzione la facciamo nelle scuole la pagina dello spettacolo prosegue a Crotone l'era della Magna Grecia stagione concertistica organizzata dalla società Beethoven Acam ancora un bel concerto nell'ambito della stagione concertistica organizzata a Crotone dalla società Beethoven Acam ad esibirsi al pianoforte in un bello omaggio a Luigi Gaetano Gulli Giosuè De Vincenti classe 85 De Vincenti si diploma in pianoforte presso il conservatorio di Cosenza con il massimo dei voti e la lode e nel 2009 consegue il bienio accademico di secondo livello con il massimo dei voti la menzione speciale presso lo stesso conservatorio con Rodolfo Rubino nel 2015 consegue la laurea magistrale in pianoforte presso l'università di Braga in Portogallo e sempre all'estero consegue due master di primo livello in pianoforte il maestro De Vincenti è stato premiato in concorsi sia nazionali che internazionali il maestro Gulli ha come caratteristica sicuramente la parte virtuosistica che si avvicina tanto a Franz Liszt ma anche a Chopin lui di fatto ha avuto dei contatti con Franz Liszt all'epoca insomma era anche un suo grandissimo ammiratore ed esistono poi tra l'altro anche delle lettere che Liszt scrisse a Gulli complimentandosi insomma per le sue doti interpretative e tecniche e dobbiamo essere anche noi calabresi a farlo anzi soprattutto noi calabresi a farlo perché se non lo facciamo noi non lo fa nessuno e sicuramente sono delle figure che meritano di essere scoperte meritano di essere ascoltate e conosciute la situazione insomma della musica della musica classica in Calabria ha delle realtà molto importanti e di sicuro tra queste c'è appunto quella dell'associazione Beethoven Hacham che dà l'opportunità a tanti insomma di ascoltare della musica di valore che è quella della musica colta di nicchia come si suol dire e che però sicuramente merita di essere ascoltata perché ha delle caratteristiche particolari e che non si trovano poi nella musica pop se così la vogliamo chiamare Ed ora lo sport calcio con le calabresi di serie B C e anche D il nostro servizio Ancora una vittoria del Catanzaro che dopo il derby e il successo a Palermo manda a casa anche il Pisa con due gol al passivo i giallorossi si confermano per qualità del gioco e per l'organizzazione anche se per sbloccare il risultato Scognamillo e compagni hanno dovuto attendere quasi un'ora il gol che ha rotto l'equilibrio lo ha realizzato Ambrosino al cinquantacinquesimo entrato due minuti prima al posto di Iemmello il raddoppio a otto dalla fine grazie ad una disgraziata deviazione di Marin nella propria porta giallorossi solitari al quarto posto e che accorciano dalla vetta grazie alle frenate delle capolista Parma e Venezia prossimo impegno per i ragazzi di Bivarini ad Ascoli terza sconfitta invece per il Cosenza che a Cittadella non riesce ad invertire il trend negativo due gol per i Veneti entrambi nel primo tempo al tredicesimo apre Vita al ventottesimo il raddoppio di Salvi le scorie del derby perso a Catanzaro si fanno ancora sentire e sabato prossimo al Marulla sarà di scena il Parma in Serie C uno dei tre big match quello tra il Crotone e la capolista Juve Stabia termina in parità ma con tante polemiche per la direzione arbitrale che dopo aver assegnato un rigore dubbio ai campani trasformato da Candellone ha annullato inspiegabilmente il gol del sorpasso del Crotone dopo che Tuminello aveva riportato la gara in parità con un preciso colpo di testa prima del riposo l'arbitro Lovison di Padova ha annullato per fuorigioco motu proprio il gol di Tribuzzi senza che il suo assistente segnalasse la posizione irregolare polemiche infinite durante e dopo in una partita che i rosso-blu avrebbero meritato di vincere in Serie D il big match tra Siracusa e Bibonese finisce in parità con i calabresi in dieci per un tempo basta un solo gol alla formazione regina allenata da Trocini per avere la meglio sull'Ocri Che tempo farà nelle prossime ore ce lo spiegano anche oggi gli esperti di trebimeteo.com Amici trebimeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà ancora questo flusso di correnti umili occidentali che dall'Atlantico spinge sistemi nuvolosi verso il Mediterraneo e l'Italia centro-settentrionale tratto una di queste perturbazioni mercoledì porterà precipitazioni abbastanza diffuse su parte del centro-nord controlliamo intanto la nuvolosità attesa per questo martedì appunto prosegue questo passaggio nuvoloso in realtà per lo più si tratta di nubi di poco conto al sud addirittura solo qualche velatura però appunto il sole verrà spesso nascosto da questa nuvolosità come precipitazioni però poco da segnalare qualche goccina di pioggia tra la Liguria e la Toscana qualche pioggia anche sull'arco alpino alla fine di martedì comincia a presentarsi qualche precipitazione un pochino più diffusa sulle regioni di nord-ovest quindi in definitiva ci attende un martedì che al centro-nord vedrà sì passare qualche nuvola ma dicevamo senza grandi conseguenze anzi non mancheranno anche delle parziali schiarite al sud le aperture sono più decise e al centro-sud clima particolarmente mite con temperature massime oltre i 15 gradi ma all'estremo sud ci avviciniamo addirittura ai 20 per tutti i dettagli sulle vostre località consultate l'app di Trebi Meteo è tutto grazie per averci seguito l'appuntamento torna più tardi con le prossime edizioni dopo